Eccoci con il dottor Francesco Turco, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Abbiamo parlato di sviluppo economico del territorio e di occupazione e andiamo ad analizzare i singoli strumenti attraverso i quali favorire lo sviluppo economico. Certamente l'agricoltura ha un ruolo prioritario, la Puglia ha essenzialmente una natura rurale. L'agricoltura sicuramente bisogna sostenerla. Noi abbiamo una certezza in Puglia che i nostri agricoltori e le aziende sono anche piccole, medie e piccolissime sappiano coltivare e sappiano fare prodotti eccellenti. Però il problema successivo è quello della commercializzazione, dello spostamento delle merci perché un prodotto fatto a Taranto sicuramente avrà un costo di trasporto fino ai mercati generali di Bologna o Milano sicuramente più alto di altre della zona. Per cui questo sostegno e le intermediazioni che ci sono alla fine danno poco sostegno economico a quelli che sono i produttori. Per cui i produttori bisogna sostenerli in queste situazioni, magari non con sonvenzioni o con soldi ma con minor difficoltà anche nei trasporti per cui c'è bisogno di viabilità e quant'altro. Noi conosciamo bene la situazione della provincia di Taranto. In provincia di Taranto c'è la zona nostra del Primitivo che sostiene e che è sicuramente un prodotto eccellente e che sostiene attualmente il territorio, gli ortaggi frutteti della zona occidentale. Queste cose bisogna salvaguardarle in ogni modo e fare in modo che venga a essere conosciuta in più perché oggi l'agricoltura fa un prodotto o il prodotto di quello che si produce in agricoltura che deve girare nel mondo. Oggi la vendita, se andiamo a vedere le nostre cooperative oppure i nostri produttori del Primitivo il 50, il 60, anche fino all'80% viene a essere venduto all'estero per cui anche questi canali di vendita, la promozione del singolo, del territorio, di un prodotto di eccellenza bisogna stabilire qual è il prodotto di eccellenza di ogni territorio e promuoverlo. E voglio dire una cosa per quel che riguarda invece l'olio. Il nostro sistema oleario è rimasto ormai completamente distrutto. Veramente un colpo al cuore vedere questi mostri ormai, sono mostri, quei bellissimi alberi che c'erano che stanno morendo tutti e quello è dovuto a un'indecisione totale di Emiliano perché non ha preso il provvedimento quando bisognava fare una barriera protettiva togliendo alberi e creando una zona filtro. Grazie a tutti!